ciao ragazzi buongiorno buon mercoledì questo verso l'ho scritto ieri sera è perché come succede nella vita ti arrivano delle ammazzate dirette nel collo all'improvviso che ti mettono in ginocchio e finché non riusci a rialtarti bisogna combattere sbenga ti senti forte il mondo sembra girare dalla parte giusta per una volta i lego si uniscono semplicemente nella maniera corretta e sbenga ti crolla la garisenda sulla spalla destra e quella degli asinelli sulla spalla sinistra e come un chiodo viene martellato su un asse marcia ormai ma dopo questo sconvolgente sbenga mi rialzo e inizio ricombattere per raggiungere ancora un po di tranquillità ciao a tutti